No, non c'è un caso dietro a Chiesa, però della gestione di Chiesa si può parlare Io dall'altro lato, per un giocatore di quel peso, se sei Chiesa e vuoi essere un leader, per assurdo, mi aspetto forse anche di più Ma magari la reazione è anche quella però, non è solo una reazione dovuta dal cambio, è una reazione dovuta anche dal voler incidere un po' di più Chiesa troppo sostituito È la quarta partita in cui viene sostituito, attorno al sessantesimo, più o meno, per Marco Parolo Marco Parolo? No, non deve essere mai sostituito Per Valon Brammi è... Beh, se la situazione è questa qua, quando non incide, per me sì Sì, allora vai al duello, al confronto in quel divano lì, troppo sostituito a Chiesa Per me è un giocatore che ha qualità, è un giocatore che ha i colpi, è un giocatore che può anche spegnersi nella partita Però può essere che è una ripartenza all'ottantacinquesimo, al guizzo e ha bisogno dei 90 minuti e avere tempo per incidere e prendersi in mano la Juve A questo tempo non gli è stato dato, non so se è per condizioni fisiche, infortuni, acciacchi Quindi, cioè, quello che comunque l'allenatore vede in settimana, se non sa allenare continuativamente può far fatica ad arrivare al novantesimo Però dal mio punto di vista è un giocatore che 90 minuti deve fare Per te no? No, perché comunque, vabbè, già parte dal fatto che non è il modulo che lui preferisce Deve stare sempre sull'esterno, tende a spostarsi sull'esterno Una partita come questa contro Torino ha trovato veramente poco spazio Torino, squadra aggressiva, ti viene ad attaccare e lì devi far vedere il tuo uno contro uno Stasera si è visto che i giocatori di Torino stanno meglio di un Chiesa ad oggi È un temone che necessita approfondimenti È un temone che necessità